Le printer lights di Resolve simulano il processo fotochimico del color timing, ossia del sistema analogico fondato sulla filtrazione della luce in fase di stampa che veniva impiegato per la correzione colore quando ancora la color correction digitale non esisteva. Le printer lights hotkeys sono state introdotte in Resolve per fornire ai color timers uno strumento il più possibile familiare e aiutarli nella transizione alla color grading digitale. Tuttavia queste scocciatoi da tastiera possono risultare utilissime a chiunque, in particolare per correggere rapidamente il bilanciamento del bianco. Vediamo ora come attivare le shortcuts per l'utilizzo delle printer lights dal momento che di base sono inattive. Entriamo nel menu color e spuntiamo la voce printer lights hotkeys. A questo punto il tastierino numerico della nostra tastiera comanda l'offset delle color wheels che come sappiamo è in comune tra primaries, bars e log. La nuova funzione acquisita tra i tasti del keypad è quella rappresentata in questa grafica. Sulle colonne dei tasti 7, 8 e 9 abbiamo in sequenza R, G e B. Quindi i tasti 7 e 4 rispettivamente aumentano e diminuiscono il gain nel canale del rosso. I tasti 8 e 5 fanno lo stesso nel canale del verde. 9 e 6 controllano il blu. A fianco troviamo i comandi di gestione della luminosità. Il tasto più aumenta il gain nel canale luma. Il tasto invio lo diminuisce. Infine abbiamo i tasti relativi al ciano magenta giallo che purtroppo sono dislocati in maniera meno logica rispetto ai tasti RGB e quindi serve un po' più di pratica per farli entrare nella memoria muscolare. Questo è ancor più il fatto che le scorciatoie si disattivino mentre impostata la visualizzazione a schermo intero del monitor di preview sono per me i due grandi difetti delle printer lights di Resolve. Ogni pressione di un qualsiasi tasto delle printer lights produce un aumento o un decremento del gain nel suo canale di afferenza pari a un punto. Se si ricerca un intervento più fine è sufficiente utilizzare il keypad tenendo premuto il tasto CTRL. In questo modo le hotkeys intervengono sul gain dei vari canali nella misura di 0,25 punti. A lato pratico. Facciamo che vogliamo scaldare questa immagine. Gli diamo un po' di rosso, tasto 7, un tocco di giallo, tasto 3 e a questo punto diminuirei un filo in rosso per essere un po' più gritti. Quindi CTRL 4. Ok. E scendiamo a un punto di esposizione. Invio. Ecco qua. Con la pressione di solo 4 tasti abbiamo ricalibrato white balance e luminosità. Giocando un po' con questa funzione vi invito a fare caso a quanto sia diverso potenziare un canale o depotenziare il suo opposto. Volendo aumentare il blu in un'immagine, per esempio, resetto la tavola nodi con CTRL HOME, posso alzare il canale del blu, tasto 9, se abbiamo una still come riferimento, shift HOME per esaltare il nodo, o abbassare il canale del giallo, tasto punto. Facciamo un confronto tra i due metodi e vediamo che i risultati sono decisamente diversi, come era prevedibile dal momento che una volta abbiamo lavorato in addizione di segnale e una volta in sottrazione. L'utilizzo di queste scocciatoie a molti sembrerà cosa da poco, però a coloro che le troveranno comode risulteranno sicuramente preziosissime e alla lunga faranno risparmiare un sacco di tempo. Questa almeno è stata la mia esperienza fino ad ora. Buona color e alla prossima!